Sì, come ha detto Marco, lui non mi aveva esplicitamente chiesto di andare alle adunanze, però io per sentirmi più a mio agio col personaggio ho voluto proprio andare in adunanza per vedere come erano questi testimonianze, anche perché io non ne conoscevo neanche uno. E mi interessava vedere i loro atteggiamenti, come parlavano, ma allo stesso tempo devo ringraziare una persona che è più presente in sala, che per motivi di privacy magari non possiede noi, che è una ragazza della mia stessa età che ha deciso di disassociarsi e questa per me è stata l'aiuto più importante perché è lei che mi ha trasmesso le motivazioni per cui il personaggio poi decide di intraprendere un'altra strada. E quindi queste due cose mi hanno portato poi a riflettere sul percorso di Giulio.